Cosa accusa? No, io non accuso nessuno. Lei soffre di meteorismo? Solo un po' di buzza. È emetico. È emetico? Lei? Io sono paziente. Prescrivo del gagadon, del zebidal, del ghididin, del geminal, del fragaden, del zibidil. Uno me lo prende prima, uno me lo prende dopo. Ma lo prendo per lei o per me? No, lo prende lei per lei. Grazie dottore. Quanto è? No, niente soldi. A me, alla mia segretaria. So tre piote. Cerchiamo una farmacia per... Eccola, trovi, entri. Dalle ziculi esce la dottoressa. Il ticca? Cosa è possibile? Ah, del gibidon, del gagadon, del zopatin, dell'offatin, del silicon e del tofano. 180, 200. 200. No, non si preoccupi, c'è il ticca. 220, ma col ticca. 218. 518 euro. Ma ne era meglio e me cagavo su te.